Sì, richiesto come sempre dei cittadini abbia come sempre risponde un intervento che abbiamo anche, perché noi sapete che è un momento che mi sento che non ha riparato anche dell'aspetto per te, che abbiamo comunque visionato tutto e siamo intervenuti nel primo plato di lavori, comincerà oggi e vado a Barona, che è in pratica del Dottievo, per poi proseguire lentamente fino a Monte di Casselvecchio. Vogliamo ripristinare tutta l'Alzaia per farci che i cittadini possano contribuire di questo bellissimo panorama. Ma non solo, vediamo anche la cosa utile perché attraverso la cooperativa sociale Milonga andiamo a lavorare a gli over 50 disoccupati e anche a quei profughi gratuitamente che sono ospiti dell'Italia e che devono imparare a comportarsi civicamente in maniera corretta. Quindi un percorso anche di riserimento sociale? Sì, di riserimento sociale o semplicemente anche di valorizzazione. Cioè, ripeto, gli over 50 sono persone che hanno nel pieno della loro carriera professionale e magari si ritrovano senza lavoro. E soprattutto anche la questione dei profughi che piuttosto che stiano lì a fare nulla imparino a rispettare le leggi italiane e a lavorare. Grazie.